La cultura che tiene unita una comunità. Questo è il filo conduttore della rassegna Leggere la città a Pistoia, presentata in Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze dalla vice presidente della regione toscana Monica Barni e dal sindaco di Pistoia, Samuele Bertinelli. Primo grande evento della capitale della cultura 2017, Leggere la città per quattro giorni dal 6 al 9 aprile riunirà architetti, urbanisti, sociologi, storici, giornalisti e anche studenti in incontri, rassegna, seminari, concerti e mostre, in tutto 60 appuntamenti e 70 ospiti in 20 luoghi della città, nel nome dell'architetto pistoiese Giovanni Michelucci e della sua idea di città come il libro di pietra da saper leggere. Ma cultura è anche cambiamento, è partecipazione e inclusione. Bene, io sono convinta che questa manifestazione che costituisce anche una degli assi portanti della candidatura di Pistoia a capitale della cultura vada proprio in questa direzione, cioè una manifestazione che vuol coinvolgere, che vuol far riflettere, che vuol far partecipare tutta la comunità pistoiese. Ad aprire la rassegna il 6 aprile l'Alexio Magistralis del filosofo Sergio Givone, tra i tanti ospiti dei quattro giorni anche Alberto Asorrosa, Piero Bevilacqua e Franco Cardini, ma anche gli studenti universitari e delle scuole superiori, contributi e riflessioni alla luce dei quali il sindaco, Samuele Bertinelli, così definisce leggere la città. Un laboratorio di idee, una fuscina di talenti e anche un vivaio di nuovi pensieri e prospettive sulla città. È una rassegna che non intende avere alcunché di modaiolo, non fa il verso a nessuno dei festival più blazonati nel parorama nazionale, perché appunto intende essere un campo di ricerca. Tutti gli eventi della rassegna sono a ingresso libero, compresa la mostra del libro Cuore Pulsante della Rassegna sotto le logge medievali del Palazzo Comunale.